Signore e signori, è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie, il ballo dell'estate. E' presente le stelle, le torri gemelle, quelle che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio, e se ti suono un po' il banjo, dici che sto neppresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, puoi andare fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista, delle cose che non ho, che non ho, che non ho. E' presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. E' presente la gente che corre a mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso, carta forbiscio sesso, dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel palco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, puoi andare fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista, delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti. Siamo lì, soltanto like a un altro post, ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista, delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Arrivederci e alla prossima estate. Ricordate, il tormentone l'ho inventato io! Eccoci amici, siamo a Mezzolaco, Val di Letro, Trento. E' sempre la stessa scuola che ci chiama, che noi amiamo, Arco Irrisi Dance, di Fabio e Nico. Grazie, grazie mille per l'invito. Abbiamo un'altra manifestazione da portare avanti, ma intanto noi vi salutiamo da Mezzolaco, Val di Letro, Trento. Ciao! Ciao! Amici, l'esercito del selfie. Ci mettiamo di spalle e lo spieghiamo in due semplici mosse. Facile, facile. Prima sequenza, e poi se no, guarda la terza. Sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, avanti, avanti. Uno, due, appoggio, usciro. Occhio. Perché la terza sequenza, quindi la parte del ritornello che canta Arisa, sarà buona la prima. Andiamo alla seconda. Sette, otto. Uno, due, e tre, quattro, cinque, sette, sette, otto. Uno, due, cia, cia, cia. Uno, due, e lo rifai. Uno, due, e lo rifai. Quattro, cinque, sette, sette, otto. Uno, due, cia, 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 cia. Uno, due, cia, cia, cia. Terza sequenza, abbiamo detto uguale alla prima. Andiamo subito dove c'è la parte finale. insomma la parte. Sette, otto. Cia, 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 cia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, slide. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, slide. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E lo rifai tutto dall'inizio. Grazie mille che ci seguite in tanti e noi giungiamo fuori quelli che sono i tormentoni e stili, ok? Grazie. Un bacio a Orte e a Rina e da Raya. Sono a casa. Grazie a Raimondo, grazie a Salvo. Ci vediamo. Siamo l'esercito del selfie Di chi si abbronza con l'iPhone Ma non abbiamo più contatti Soltanto like a un altro po'